C'è un'area presente a Policoro in prossimità di Via Puglia che richiede qualche delucidazione. Oggi ne parleremo con Benedetto Gallitelli, che lo ricordiamo è stato già consigliere presso il Comune di Policoro un po' di anni fa. Allora io vorrei innanzitutto chiederle con quale amministrazione è stato acquisito il diritto di assenso, silenzio da parte degli ex espropriati per quell'area? Innanzitutto va fatta una precisazione ed è la seguente. Quell'area fu indicata come parco pubblico durante l'amministrazione di Guidovicino, quindi siamo negli anni 70. Successivamente, e questo è durato per un periodo abbastanza lungo, questa indicazione di parco pubblico, successivamente poi ha avuto una serie di vicissitudini e anche di cambi di destinazione d'uso, ma alla sua domanda c'è una data precisa, cioè c'era un'amministrazione Lopatriello-Leone, sto parlando del 2006, quando i ricorrenti eredi da Amato Mario ed altri hanno fatto opposizione al Tar di Basilicata, gli è stato riconosciuto praticamente il diritto di far sì che quest'area fosse stata retrocessa a favore di questi eredi. Senta, ma quindi la destinazione d'uso è cambiata, chiariamolo ai cittadini, ma l'amministrazione attuale, quali provvedimenti ha preso in merito a questa questione? L'amministrazione attuale ha cercato di prendere dei provvedimenti importanti, anzi dirò di più che il primo agosto del 2012, nel secondo Consiglio Comunale, l'attuale sindaco Leone ha riportato l'argomento in Consiglio Comunale, e in quell'occasione il sindaco Leone, che devo dire va a suo onore, si è battuto non solo di nome, ma anche di fatto, cioè ha cercato in tutti i modi di far ritornare quell'area così come era stata indicata in precedenza, cioè allo status quante, cioè quando era sindaco a punto vicino, e ha fatto approvare una delibera di Consiglio in tal senso. Però che cosa è successo? Ha fatto qualcosa in più il sindaco Leone, addirittura poi ha dato incarico al professor Abbamonte e all'avvocato Cirigliano di fare ricorso, appello, a quella che erano state le sendenze del TAR, la 512 del 2012, la 513 del 2012, per far sì che quest'area ritornasse ad essere parco pubblico. Senta, ma questo appello poi è stato inoltrato, cioè effettivamente che cosa è successo? Ecco, e qui inizia un pochettino l'arcano, nel senso che sembrerebbe, ma a me risulta da fonte certa, che questo appello non è stato mai presentato. Allora il primo problema che magari uno si chiede, la prima domanda che uno si fa, ma come mai, che cosa è successo da una richiesta, diciamo, forte in Consiglio Comunale da parte del sindaco Leone e dalla sua maggioranza, addirittura in contrapposizione con un voto contrario dell'opposizione, che l'opposizione non ha sostenuto, gli ha votato contro, e questo la dice anche Lunga poi su alcuni atteggiamenti, come mai poi vengono dati questi incarichi al professore Abamonte, come dicevo prima, all'avvocato Cirigliano, però non è stata presentata. Questa è una delle risposte che i cittadini gradirebbero sapere, perché allo stato attuale, che io sappia, le motivazioni non sono note. Bene, il vice sindaco, l'avvocato Ricco Bianco, avrebbe verosimilmente dichiarato che nelle casse comunali, in merito a questa questione, sarebbero rientrati 260.000 euro. Questa è una cifra congrua per le casse comunali e che fine hanno fatto questi fondi? Premesso che io non so che fine hanno fatto questi 260.000 euro, però a me sembrano che le cifre non coincidano. Io ho letto un po' tutta la documentazione e mi risulta che di cifre si parla da parte del geometra che a suo tempo è stato incaricato dall'amministrazione comunale per redigere una perizia per quanto riguarda i costi dell'area, il geometra Brucoli di Matera parla di una cifra di 163.000 euro per quanto riguarda le aree e poi parla invece di una cifra globale di tutta quanta l'area, così come è stata espropriata, di 650.000 euro. Ora, adesso io non riesco a capire questi 260.000 euro di cui parla il vice sindaco Bianco, da dove siano venuti fuori? Probabilmente forse dovremmo andare alla ricerca di circa 100.000 euro tra i 163.000 e i 260.000, che, ripeto, io non saprei nemmeno dare una risposta né come sono stati spesi e tantomeno qual è la cifra reale poi, perché, ripeto... Cioè, praticamente Lembo, una sostanza, sta dicendo che quei, diciamo, terreni forse valevano un po' di più? Ma, dalla perizia del geometra Brucoli, io continuo a dire che ci sono due cifre, una che riguarda solamente il valore dell'area e l'altra che riguarda il valore complessivo di tutta quanta l'area, quindi un valore parziale e un valore totale, compresa anche i fabbricati che insistono su quell'area. Ora, a mio avviso, e anche interpretando quelle che sono le sendenze del TAR, il TAR parlava che la retrocessione doveva essere globale, cioè il Comune avrebbe dovuto incassare, a mio avviso, probabilmente 650.000 euro e non 163, che è una perizia parziale della zona, o addirittura 260.000 che non riesco a capire da dove vengono furi. Cioè, dalla documentazione che io sono riuscito a reperire, ripeto, attraverso gli atti che il Comune pubblica sul loro sito, questi 260.000 io non li ho mai letti, non li ho mai visti. Può anche darsi che sono io disinformato, non lo so, ma comunque sarebbe opportuno chiarire anche questo aspetto. Sì, senz'altro poi sentiremo il Vice Sindaco, l'Avvocato Enrico Bianco. Un'ultima cosa, signor Galitelli. Allora, quell'area è un prolungamento del terzo piano di zona, che in realtà non si chiama terzo piano di zona, a sua volta era il prolungamento del secondo piano di zona. Quindi doveva essere un parco fruibile per i cittadini, no? Dunque, quell'area intanto fu individuata come parco pubblico, come dicevo all'inizio, dall'amministrazione Guido Vicino, perché quell'amministrazione, dopo aver indicato e iniziato a costruire nell'attuale secondo piano di zona, individuò quell'area, tutta quell'area, come diciamo un parco, un prolungamento del secondo piano di zona. E noi diciamo che lo indichiamo come terzo piano di zona. E quell'area è stata acquistata, durante l'esproprio, con i soldi di tutti i cittadini che hanno costruito nel terzo piano di zona. E anche qui io non riesco a capire come mai un'area che è stata espropriata con i soldi dei cittadini del terzo piano di zona, il Comune, dopo tutta una serie di vicissitudini della faccenda, che come ho anche scritto in un articolo che è stato ripreso anche dal Tg3 di Basilicata, e ha subito varie variazioni e quindi andrebbero anche esaminate un po' le motivazioni di questi cambiamenti. Però poi dico, questi cittadini che hanno messo loro i soldini per espropriare quell'area, ivi compresi il parco, la zona riguardante del parco pubblico, poi alla fine il Comune incamera i soldi dagli ex eredi da Amato Mari e da altri e poi tutto sommato questi soldi non so dove sono andati a finire. Probabilmente forse sarebbe stato anche abbastanza logico riportare o ridare o quei soldi ai cittadini che avevano messo loro inizialmente per l'esproprio, o comunque vorrei anche capire quali vantaggi questi cittadini del terzo piano di zona hanno potuto avere, e questo sarebbe anche un'altra domanda da fare all'attuale amministrazione, nell'utilizzo di questi 163 mila euro o 260 mila come dice Bianco o dei 650 mila che erano i soldi reali indicati nella perizia del geometra Brucoli. Bene, in attesa di risposte e delucidazioni da parte dell'amministrazione comunale, da Ionica TV è tutto.